Innometro è un progetto nato e costruito nella città metropolitana di Torino. L'ente è stato sempre vicino al mondo della piccola e microimpresa e questa volta è proprio verso la microimpresa che creiamo una misura volta all'innovazione delle stesse, vista come momento fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e del valore aggiunto che nuovamente le microimprese danno al nostro territorio. Siete quasi il 99% del territorio e tutti i percorsi di innovazione digitale e tecnologica che sono facili a pannaggio delle grandi aziende non si rivolgono con grande facilità a voi, soprattutto per quelli che sono i costi che dovete sostenere. Per fare questo salto nel presente la città metropolitana ha pensato di venire in incontro accompagnandovi con dei percorsi innovativi che saranno utili alla crescita e dello sviluppo della vostra azienda e soprattutto finanziandovi in una misura pari ad almeno il 50% di quello che andrete a spendere con un tetto massimo di 25.000 euro. Accanto a questo abbiamo previsto anche un finanziamento a tasso zero con le banche verso le quali saremo noi poi a colmare il tasso di differenza. Approfittate di questa occasione. È un'occasione che noi cercheremo anche di ripetere negli anni, ma è importante che si parta adesso.